Musica Sala Consilina, nuovo ingresso e lavori di ritindeggiatura al cimitero, la soddisfazione del consigliere delegato Lettieri. San Pietro Altanagro, nominate le commissioni consigliari e la commissione Deco. Sassano, nuovo anfiteatro Terra Mia, il Palazzo Babbino, ieri l'inaugurazione. Boom di presenze per Teggiano Antiquaria, ieri in visita il procuratore dell'antimafia, Cafiero Derao. Calcio, grandi appuntamenti nel weekend, si lotta per le primissime posizioni. Buonasera e bentrovati al nostro telegiornale. Il cimitero di Sala Consilina, in occasione della commemorazione dei defunti, ha un nuovo volto grazie all'iniziativa del consigliere delegato ai servizi cimiteriali Bartolomeo Lettieri, rifatto l'ingresso e le mura perimetrali. Fine settimana dedicato ai defunti e per l'occasione l'amministrazione comunale di Sala Consilina ha voluto dare una nuova immagine al cimitero, grazie alla conclusione della prima tranche di lavori di ammodernamento e ristrutturazione. Una prima parte di interventi che ha riguardato in particolare la parte esterna, con la ritinteggiatura delle mura perimetrali e il rifacimento del cancello d'ingresso principale. Nei giorni scorsi la consegna delle opere realizzate, alla presenza del consigliere delegato ai servizi cimiteriali Bartolomeo Lettieri, che con il supporto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone, ha voluto investire sulla realizzazione delle opere che proseguiranno anche nei prossimi mesi, al fine di intervenire sull'intera area del Camposanto, sia nella parte interna che esterna. In questi giorni dedicati ai defunti, quindi, il cimitero di Sala Consilina si presenta con un nuovo volto, che rappresenta però solo l'inizio di un percorso di riammodernamento, riqualificazione e messa in sicurezza del luogo sacro. Lavori che, come sottolineato dal consigliere delegato Lettieri, sono stati realizzati in economia e avvalendosi del grande lavoro e della disponibilità degli operai comunali. In occasione del 2 novembre, io ne ho approfittato come consigliere delegato a rifare l'ingresso, nel senso che con i dipendenti comunali, con gli operai, che spesse volte vengono criticati, invece no, io li ho invogliati e hanno fatto un bel ingresso. Quello che vedete alle mie spalle, ovviamente, è il nuovo ingresso. E' costato pure poco a dire la verità, per cui ringrazio i dipendenti comunali e gli operai, che sono impegnati in questo e tutta l'amministrazione di Sala. Il tipo di intervento che è stato fatto, è stato torto l'intonaco all'ingresso, hanno cacciato le pietre perché prima c'era l'intonaco, pitturato tutta la parte esterna delle mure di recensione. E' quindi una bella accoglienza per le persone che verranno a fare visita, come puntualmente in ogni anno. Istruzione per i ragazzi con disabilità in campagna. La Regione stanzia un milione di euro per testi e supporti innovativi. Testi e supporti post-scolastici agli alunni disabili. La Giunta regionale della Campania stanziata un milione di euro per interventi di inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale. Un provvedimento orientato su tre linee di azione, ovvero interventi a sostegno degli alunni con disabilità visiva per fornire agli stessi testi scolastici a caratteri ingranditi. Interventi finalizzati a garantire pare opportunità alle persone con disabilità uditiva attraverso il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo. Interventi finalizzati all'aiuto post-scolastico mirati a fornire alle persone con disabilità di tipo visivo e uditivo un aiuto specifico che consenta loro di superare le difficoltà che incontrano in ragione della presenza della disabilità. Una misura dall'alto valore sociale dunque che intende tutelare e sostenere il diritto di ogni cittadino a studiare, a formarsi e a crescere culturalmente e personalmente. Soprattutto per i giovani affetti da disabilità chiamati nella fase di apprendimento a superare ostacoli ben più alti di quelli affrontati dai loro coetanei. Una misura che ricalca perfettamente con l'idea di scuola forte, unita e inclusiva che ognuno di noi deve sentire come parte integrante del proprio progetto di crescita. Individuati a San Pietro Altanagro i componenti di tre commissioni, oltre alla nomina della prima e seconda commissione consigliare come da statuto, è stata anche composta la commissione DECO per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari. A San Pietro Altanagro costituite le commissioni consigliarie e nominati membri, tre le commissioni che entrano di diritto a far parte della vita amministrativa del Comune. Oltre alla prima e seconda commissione consigliare che sono previste dallo Statuto Comunale con le funzioni stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale, è stata nominata anche una terza commissione per la valutazione dei prodotti DECO. Con delibera di giunta dello scorso 4 ottobre sono stati nominati i componenti della commissione DECO per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari. La commissione è presieduta dal sindaco Domenico Quaranta che si avvarrà del supporto di Antonio Pagliarulo, consigliere comunale, nonché promotore dell'iniziativa legata alla valorizzazione proprio dei prodotti locali e del marchio DECO, su cui sta appuntando da anni, avendo individuato anche eccellenze e tipicità su cui investire. Accanto a Pagliarulo sono stati inseriti i nomi di esperti esterni, fanno parte della commissione DECO Alfonso Benincasa, esperto del settore gastronomico, Conangelo Tropiano, esperto del settore commerciale e marketing, Gabriele Maliandi, esperto del settore oleicolo e vinicolo, Pietro Felice Quagliariello, esperto del settore tecnologie alimentari, Michele Romaniello, esperto del settore agricolo e Francesco Cardiello, presidente della Proloco di San Pietro Altanagro in qualità di esperto del settore associazionistico. L'intento, spiega Antonio Pagliarulo, promotore dell'iniziativa, è quello di riconoscere i prodotti agricoli ed artigianali un marchio che possa contribuire a inserirli sul mercato con maggiore facilità e che soprattutto sia simbolo di qualità. Uno strumento continua che dovrà servire anche per combattere e contrastare chi vuole distruggere il nostro territorio. Il regolamento è stato voluto da me per aiutare le aziende di San Pietro Altanagro. Insomma, evidenza in conclusione Antonio Pagliarulo, creare una speranza in un momento di crudeltà umana nei confronti della nostra terra e dei suoi abitanti. Lo scorso 18 ottobre, inoltre, sono stati nominati i membri delle due commissioni consigliari. La prima commissione, chiamata ad esprimersi con parere obbligatorio ma non vincolante sulle materie legate al bilancio di previsione, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica, regolamenti e statuto, piano urbanistico comunale e strumenti attuativi, è composta da Michele Zambrotti e Andres Miguel Crisci per la maggioranza e Piera Romando per il gruppo di opposizione. La seconda commissione, a cui sono assegnati i compiti residuali rispetto ad ogni altra competenza amministrativa, come si legge sul regolamento, e i cui pareri non sono né obbligatori né vincolanti, è invece composta da Domenico Quarante e Giuseppe Auleta per la maggioranza e per la minoranza Antonio Ricotta. Ieri mattina, presso Palazzo Babbino a Sassano, il taglio del nastro del nuovo anfiteatro Terra Mia, uno spazio dedicato all'arte e alla cultura nel nome di Pasquale Petrizzo e Michele De Lisa. Il centro storico di Sassano da ieri dispone di un nuovo spazio dove poter creare arte. Ieri mattina, presso Palazzo Babbino, l'amministrazione comunale e i cittadini si sono ritrovati per l'inaugurazione del nuovo e ammodernato anfiteatro Terra Mia, dedicato a due grandi personaggi della cultura e dell'arte di Sassano, il professore Pasquale Petrizzo e il professore Michele De Lisa. La cerimonia di inaugurazione con la successiva benedizione da parte di Don Otello Russo della nuova area spettacoli è stata anche occasione per ricordare le due figure che sono esempio per la comunità a cui hanno tramandato la voglia di arte e di cultura. Dopo il taglio del nastro, il sindaco Pellegrino ha spiegato che hanno voluto dare il nome all'anfiteatro Terra Mia per tramandare alle giovani generazioni l'amore per la propria terra d'origine e l'impegno a proteggerla e ad investire su di essa. Significativo poi il murales che sovrasta l'anfiteatro in cui sono raffigurati Pasquale Petrizzo e Michele De Lisa con al centro Sassano. Palazzo Babbino, centro culturale di Sassano, si arricchisce quindi di un nuovo spazio che già dalla prossima primavera sarà animato da spettacoli ed eventi culturali. Siamo molto orgogliosi di questo lavoro perché nel cuore del centro storico oggi realizzare un anfiteatro completo migliorandolo ma soprattutto facendolo diventare un vero e proprio anfiteatro in un luogo suggestivo perché qui Palazzo Babbino in un contesto particolare in un contesto di grande pregio anche ambientale oltre che paesaggistico siamo veramente molto orgogliosi perché la musica, Sassano lo ricordiamo, è la città della musica perché la cultura, qui abbiamo istituito è stato il nostro primo atto come amministrazione dieci anni fa di istituire la biblioteca comunale perché una comunità senza biblioteca una comunità senza il punto di riferimento culturale più importante e il punto di riferimento più importante per i nostri ragazzi per i nostri figli e oggi si completa effettivamente un percorso significativo con l'anfiteatro e proprio qui Sassano, cuore del centro storico musica, teatro, arte, cultura si potranno avere una propria casa noi continueremo perché qui Palazzo Babbino realizzeremo anche il primo museo virtuale delle orchidee perché ovviamente nel paese delle orchidee non può non esserci un museo delle orchidee quindi creeremo un vero e proprio polo artistico-culturale che diventerà anche attrattore per un turismo del territorio dell'intero parco nazionale del Cilento Valodiane Alburni Dei hospital psichiatrico anche di notte questa la richiesta di FIAL Salerno per l'ospedale Luigi Curto di Polla Apertura del NET Hospital di Psichiatria di Polla un tema che sta tenendo banco negli ultimi giorni non solo nel comprensorio valdianese sulla vicenda è intervenuta la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità di Salerno che attraverso una missiva indirizzata al direttore dell'ASL Mario Iervolino chiede ulteriori chiarimenti Abbiamo atteso con ansia i medici affinché fosse attivo anche di notte il servizio dei hospital si legge nel comunicato funzionante solo parzialmente per carenza di personale L'unità operativa di salute mentale conta attualmente 5 unità mediche e un'unità dirigente di secondo livello Per FIALS dunque esistono le condizioni che permettono di redigere un turno di reperibilità medica per garantire il servizio anche di notte La dotazione organica infermieristica di un'unità più una reperibile consente il turno di notte I pazienti e la società conclude la missiva chiedono immediatamente la riapertura anche alla luce della risoluzione delle carenze iniziali Il tutto è finalizzato al miglioramento dell'assistenza delle emergenze in ambito psichiatrico soprattutto dopo la chiusura del servizio psichiatrico di dipendenza e cura di Sant'Arsenio Il Consorzio di Bonifica di Pestum ha un nuovo presidente Roberto Ciuccio nei giorni scorsi l'elezione che arriva dopo quasi tre anni di commissariamento e 40 giorni di presidenza protempore Roberto Ciuccio è ufficialmente il nuovo presidente del Consorzio Bonifica di Pestum nel corso dell'ultima seduta il Consiglio dei Delegati ha proceduto alla sua nomina con 13 voti favorevoli e due astenuti regolarmente presenti i tre delegati provinciali Donato De Rosa Carmelo Pagano ed Emilio Nastri assente solo il delegato regionale ed ex commissario consortile Antonio Pagano Dopo oltre tre anni di commissariamento dunque 40 giorni di presidenza protempore l'ente pestano torna a godere di un'amministrazione autonoma e democraticamente scelta dai propri consorziati è un incarico che svolgerò con grande senso di responsabilità in stretta sinergia con gli altri attori istituzionali del territorio attraverso un'azione amministrativa concreta basata sui principi della prudenza e della sana gestione punterò al recupero dei crediti da posizioni morose ma soprattutto ad ottimizzare costi e spese razionalizzando al meglio i servizi essenziali che l'ente deve garantire all'utenza ha dichiarato Ciuccio subito dopo aver ricevuto la nomina effettiva appena mi sono insediato ho provveduto come prescrive la legge all'inviare alla regione Campania il rapporto relativo alla situazione economica del consorzio aggiunge il presidente dell'ente di bonifica pestano tale relazione non è stata firmata dall'ex commissario pagano così ho chiesto agli uffici interni di approfondire la gestione del consorzio nel doppio periodo commissariale tali relazioni hanno evidenziato soprattutto durante la prima gestione del commissario Biagio Franza un notevole aumento delle spese spesso non giustificate conclude Ciuccio per tale ragione abbiamo denunciato alla procura regionale della Corte dei Conti due ipotesi di danno erariale lunedì 4 novembre le celebrazioni della giornata dell'unità nazionale delle forze armate in tutti i comuni del Vallo di Diano in particolare a Polla alle ore 10 e 30 la Santa Messa ufficiata dal Vescovo Monsignor Antonio De Luca e dai parroci di Polla presso il Parco della Rimembranza a cui parteciperanno le scuole di Polla le autorità civili e militari nonché le associazioni dei combattenti e reduci d'arma come ogni anno si farà memoria di tutti i caduti e dispersi delle guerre con un particolare ricordo per i militi pollesi in caso di condizioni meteo avverse la Santa Messa sarà celebrata nella Chiesa di Cristo Re dopo le celebrazioni della Messa muoverà il corteo che terminerà in Piazza Ponte con la deposizione della Corona di Alloro al Monumento dei Caduti accompagnata dall'esecuzione dell'Inno Nazionale altre celebrazioni poi con le sante messe la deposizione delle corone e monumenti ai caduti sono previste a Sant'Arsenio nelle ville comunali alle 9.30 a Sanza in Piazza 24 maggio alle ore 10 a Teggiano l'appuntamento è alle ore 11 presso la Chiesa di Sant'Agostino a Sala Consilina alle 11.30 in Piazza Umberto I Bene, termina qui la prima parte del nostro telegiornale diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità Bentornati in studio Teggiano Antiquaria in corso al Castello Macchiaroli fino a domani conferma il suo ruolo di importante mostra di antiquariato e collezionismo la più importante del sud Italia nella giornata di ieri tra le tante presenze anche un illustre visitatore vediamo Si sta rivelando un successo oltre ogni più rose aspettativa la ventunesima edizione di Teggiano Antiquaria presso il suggestivo Castello Macchiaroli di Teggiano boom di presenze nella giornata di ieri con i visitatori che hanno mostrato grandissimo interesse per i pregiati pezzi in esposizione la mostra di antiquariato e collezionismo inoltre ha potuto vantare anche la presenza di un illustre ospite in occasione di Teggiano Antiquaria infatti è stato accolto da Gisella Macchiaroli e Guido Gnocchi il procuratore nazionale dell'antimafia Cafiero Derao che è tornato nel Vallo di Diano a distanza di diversi anni dalla cerimonia di consegna del premio Gio Petrosino a lui è segnato ai tempi in cui era stato da poco nominato procuratore della Repubblica a Reggio Calabria dopo aver lasciato Napoli dove Derao ha rappresentato la pubblica accusa nel processo Spartacus contro il clan camorristico dei Casalesi un'importante personalità quindi ha visitato la mostra di antiquariato che negli anni si è giudicata di diritto il titolo di più importante mostra a mercato di antiquariato e collezionismo di tutto il meridione un titolo che viene anche certificato dai numeri sempre in crescita di anno in anno e che nella sola giornata di ieri ha fatto registrare un numero impressionante di visitatori acquirenti dei prodotti di altissimo pregio e di grande valore storico che sono esposti nella suggestiva location del castello Macchiaroli impreziosendo ancora più gli oggetti di finissima manifattura le porte della storica roccaforte tegianese di tegiano antiquari resteranno ancora aperte fino a domani domenica 3 novembre c'è ancora tempo quindi per poter godere della mostra a mercato dove è possibile trovare ed acquistare pezzi davvero unici come prestigiosi oggetti provenienti dalla Cina appartenuti alla dinastia Ming risalenti al 400 l'esposizione comprende pezzi che vanno dal 300 al 900 con la possibilità di ammirare ed acquistare prodotti di antiquariato classico filatelia e numismatica libri antichi gioielli di antica manifattura e tanto altro ancora la mostra è visitabile fino a domani domenica 3 novembre negli orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22 a Castel San Giorgio la nona edizione del premio giornalistico Mimmo Castellano in memoria del giornalista scomparso prematuramente dieci anni fa nel corso della manifestazione sono stati assegnati riconoscimenti a giornalisti che operano nel campo dell'informazione locale e nazionale tra questi il riconoscimento per l'attività giornalistica nella sezione ufficio stampa a Geppino D'Amico da sempre punto di riferimento per i giornalisti del Vallo di Viano e non solo Grande partecipazione a Castel San Giorgio per la nona edizione del premio giornalistico Mimmo Castellano evento realizzato dall'associazione della stampa Campania Valle del Sarno con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti del Consiglio dell'Ordine Regionale della Campania del Movimento Unitario dei Giornalisti oltre al Comune di Castel San Giorgio e Provincia di San Giorgio di Calerno una manifestazione che onora la memoria del giornalista Mimmo Castellano scomparso prematuramente dieci anni fa il premio è considerato uno dei fiori all'occhiello per l'asso stampa che infinta alla sua costituzione è inteso rendere omaggio ad una personalità che ha dato tanto all'intera categoria nel corso della manifestazione sono stati assegnati numerosi riconoscimenti a giornalisti che operano nel campo dell'informazione locale e nazionale tra questi riconoscimento per l'attività giornalistica Geppino D'Amico da sempre punto di riferimento per i giornalisti del Vallo di Diano è un riconoscimento alla memoria al giornalista Cavese Raffaele Senatore consegnato ai figli all'evento sono intervenuti il presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti Carlo Verna il presidente dell'ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli il presidente del movimento unitario giornalisti Mimmo Falco e Salvatore Campitello consigliere dell'ordine dei giornalisti della Campania grazie agli organizzatori per avermi voluto assegnare questo riconoscimento come è stato detto per gli uffici stampa è un lavoro che ho fatto per lo meno per 30 anni spero di averlo fatto nel modo migliore possibile è chiaro questo poi ovviamente posso dare un giudizio sulla quantità del lavoro svolto non certamente sulla qualità il lavoro sulla qualità aspetta i colleghi Tu hai conosciuto Mimmo Castellano? Certamente l'ho conosciuto benissimo perché io sono iscritto all'ordine dall'85 e l'ho conosciuto tramite un collega che purtroppo non c'è più Gian Paolo Necco perché quando volevo presentare domanda per l'iscrizione all'ordine io sono nato giornalista con la televisione e mi fu detto che la televisione non veniva presa in considerazione radio e televisione non venivano prese in considerazione Mimmo ha fatto grosse battaglie ha fatto la battaglia appunto per far sì che anche i giornalisti radio televisivi potessero essere iscritti all'ordine ma soprattutto ha fatto la battaglia per l'approvazione della legge 150 del 2000 per l'istituzione degli uffici stampa negli enti pubblici prevedendo queste tre figure fondamentali per fare informazione e comunicazione ufficio stampa retto da un giornalista la comunicazione retta per lo più da un sociologo e poi per quanto riguarda la terza figura non meno importante quella del portavoce è passato un anno dalla morte di Violetta Senciu la 32enne rumena rimasta vittima di un incendio per il quale fu arrestato il marito il centro antiviolenza a Retusa organizza in sua memoria un momento di riflessione si terrà giovedì 7 novembre ad Atena Lucana Scalo La Forza delle Donne titola così l'incontro riflessione in memoria di Violetta Senciu che si terrà giovedì 7 novembre alle ore 17.30 presso il centro antiviolenza a Retusa ad Atena Lucana Scalo è passato un anno era il 3 novembre un sabato pomeriggio quando la 32enne di origine rumena rimase ustionata per poi morire in ospedale vittima di un incendio rivampato nel suo appartamento di sala Consilina per il quale fu fermato il marito l'ennesimo caso di femminicidio un episodio che sconvolse l'intera comunità valdianese chiamata ora a confrontarsi ad un anno dalla prematura e atroce scomparsa di Violetta giovedì ad Atena Lucana ci sarà un momento di riflessione sulla forza delle donne dicono gli organizzatori e sulla possibilità di chiedere aiuto per fuoriuscire dalle violenze subite seguirà la proiezione di un cortometraggio e la visione delle opere dell'artista assunta Giovanninelli e dell'associazione Pazia l'evento è organizzato dal centro antiviolenza a Retusa e sostenuto dal comitato Libere Cittadine di cui fanno parte la consulta delle amministratrici del Vallo di Diano del Sanagolo e degli Alburni la FIDAPA sezione di Montesano l'associazione Le Case di Igea l'associazione Pazia l'associazione Volta Pagina la cooperativa sociale Iscra e il comitato se non ora quando e ora lo sport un fine settimana di grande sport per il calcio locale con le principali formazioni del territorio pronte a dare battaglia per confermare quanto di buono fatto vedere in questo avvio di stagione Un fine settimana di grande sport per il calcio locale con le principali formazioni del territorio pronte a dare battaglia per confermare quanto di buono fatto vedere in questo avvio di stagione partendo dal torneo di eccellenza la decima giornata vedrai il Buccino Volcei di scena in trasferta contro la Battipagliese in un match dal sapore d'alta classifica per entrambe le formazioni partite fortissimo in regular season i Volceani sono in piena zona playoff e cercano immediato riscatto dopo la sconfitta di Misura patita nell'ultimo turno casalingo contro l'Audax Cervinara un motivo in più per cercare con forza quei tre punti che darebbero un'immediata iniezione di fiducia ai gialloneri in promozione invece giocherà tra le Muramiche e Real Palomonte che dovrà vedersela contro la Virtus Cilento i Biancorossi stazionano nei bassi fondi della classifica a quota 7 punti al penultimo posto in coabitazione con la Sarnese dopo il buon pareggio di domenica scorsa l'obiettivo dichiarato sono i tre punti in prima categoria non si può che parlare di altissima classifica per il sassano calcio seconda della classe con ben 10 punti i Biancazzurri sono partiti alla grande sulla falsariga della scorsa stagione consapevoli di avere un organico all'altezza per competere fino alla fine l'avversario di turno è Rofrano che carte alla mano non dovrebbe recare troppi problemi ai valdianesi reduci dei cinque gol rifirati in trasferta lo scorso weekend all'atletico Ebole è tutto per questa edizione vi ringrazio per la cortese attenzione auguro a tutti voi buona serata grazie a tutti grazie a tutti